Buon pomeriggio e buon ferragosto dalla redazione di TG Com 24. Quest'oggi, come ogni anno, il ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, ha presieduto il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico comunicando i dati proprio in tema di criminalità, sicurezza e prevenzione. È tornato a riunirsi stamattina, come ogni anno, a Ferragosto il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto al Viminale dal ministro dell'Interno, Luciano Lamorgese, che in videocollegamento con tutte le forze di polizia e le sale operative di protezione civile, vigili del fuoco e capitanerie di Porto ha illustrato il bilancio del Governo con i dati su criminalità, sicurezza in generale e prevenzione dal 1 agosto del 2021 fino al 31 luglio di quest'anno. 12 mesi che hanno visto aumentare di 241.441 casi il totale dei delitti rispetto all'anno precedente, 2.116.479 contro 1.875.038 del 2021, quando però c'era il Covid. Crescono anche gli omicidi 319 più 43, di cui 125 hanno avuto come vittime donne. In aumento dunque rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni tre giorni. Salgono le rapine e i furti aumentati rispettivamente di 4.669 casi e di 171.000, quasi 800.000 le persone denunciate, di cui 149.068 in stato d'arresto con oltre 18.000 operazioni antidroghe effettuate e 100.000 chili di stupefacenti sequestrati. Quasi raddoppiati gli attacchi informatici denunciati o intercettati, secondo i dati del Viminale, in un anno sono stati 8.814, mentre nei 12 mesi precedenti erano stati 4.938. Nella lotta al terrorismo sono stati arrestati 10 estremisti di area anarchica e 16 della destra avversiva, con 61 espulsioni per motivi di sicurezza dello Stato. Oltre 10.000 le persone scomparse ancora ricercate, altrettante quelle ritrovate. 45.664 gli sbarchi di migranti nel nostro paese e 137 gli scafisti arrestati.